Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio nuovo canale di youtube Batsmog Games Io sono Batsmog e sono qui per presentarvi un po' il mio canale, per conoscerci un po' Su questo canale giocheremo più che altro a giochi, vecchi, nuovi, giochi che mi consiglierete voi E giochi a cui avrò piacere giocare io e spero che avrete piacere a guardare Oggi voglio partire col primo video, col primissimo video in assoluto Così il primo che lo guarda può commentare Sono arrivato primo, come fanno di solito Voglio iniziare il primo video con la nuova modalità dell'evento di Halloween, The Overwatch Davvero molto carina, una modalità in stile horror frankensteiniano E mi piacerebbe mostrarvela e mostrarvi tutti i nuovi modelli che hanno messo per l'evento Che sono davvero molto carini Quindi, se siete pronti, andiamo Ok ragazzi, eccoci qua Siamo qui sulla schermata principale Andiamo subito sulla vendetta di Frankenstein Per oggi la faremo facile perché ho provato a farla in medio ed è stato veramente un massacro se non sei coordinato Quindi oggi la faremo facile Poi magari la prossima volta la facciamo media e la prossima volta ancora difficile Magari me lo dite voi nei commenti Allora, di cosa si tratta? Si tratta di battere delle ondate di zombie robot In un ambiente proprio stile frankenstein Con una squadra di quattro personaggi Io per questa volta sceglierò sul dato che è il più bilanciato A cure, a danni E possiamo Diciamo, gestircela meglio E' narrata benissimo Tra l'altro Da Reinhard Eccolo lì Già anche in style E' fatta benissimo questa modalità E tutti i modelli dei personaggi sono stupendi E io metterò le mani su quella mersi strega Ok, iniziamo un po' con la distruzione Un soldato e la pulizia Un soldato e la pulizia Un tipo strano E' bella costata 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 Hai l'abitudine di attirare strani alleati Anche sopra lo si va in tempo Ok L'ambientazione è meravigliosa Adoro Guardate il castello del sottofoglio Il sottofoglio Non il sfoglio Il sottofoglio Il castello Ok, per ora sta andando tutto bene Non ci sono Svegli particolari di Sconfitta Ma la situazione ragazzi Non preoccupatevi Si farà molto Ma molto più difficile Più avanti Quando inizieranno a comparire i primi boss Allora i boss sono Reaper Nel ruolo del mietitore Rodolp Nel ruolo del mostro di Junkerstein E Junkerat Nel ruolo di Junkerstein Distruggetela Braavissima Quelle bombe Sono le rotobombe di Junkerat Che vanno a Maciullare diciamo la porta Che noi stiamo cercando di proteggere Da questi Zombo Da questi Zomnik Sono dei zombie robot Praticamente E il nostro compito È quello di proteggere La porta Appunto da Questi Cattivoni Che cercheranno Di farci sia esplodere E distruggerla Le rotobombe di Junkerat Sarbo a vostro scopo Alla andare a distruggere Il tuo portone Alla giù che Stiamo proteggendo Ecco arriva il primo boss Arriva di Perno Eccolo Eccolo Vostre anime Bellissimo In questa schiena stessa Bravi Bersaglio E' importante Coprire bene tutti i lati Perché Questi cavolo di robot Se colpiscono una porta Mi fanno un danno assurdo Il mio editore è un nemico potente Potrebbe ancora avere la meglio Su di noi Mi porterò a casa Sani e salvi Grazie alla porta Cerca la Seles Eccolo Adesso sarà il turno Di Junkerat A poi ci sarà Rodog Rodog che E' il mostro di Junkestine E quindi sarà In versione mostro di Frankenstein E poi arriverà Mersi La strega Che resusciterà tutti E dovremo affrontare Tutti i boss Insieme Oh L'ho distrutto subito Guardi ragazzi Via d'arrazzo Ok No Ok Soprredenza Inoltre Nella campagna possibile Acquisire punti esperienza Con Perciò E' un'ottima cosa Una campagna pv Ci vuole L'altro Troppo come Overwatch Eccolo E' bellissimo E' il mostro di Junkestine Sì 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 Siamo morti Siamo morti Vabbè Vabbè La risuscita è arrivata a 5 secondi Sì Sì Ero concitato sul mostro E non ho Non ho guardato la vita che avevamo a disposizione Non importa Non importa Crema Oh Ecco Che arriva Junkestine E' fatta benissimo Questa modalità E' fatta sorprendamente Impazzito Spingevano Spingevano Andando le sue creature Sosso Ma Vabbè Steg Vabbè 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 Soprattutto di questi rompiscatole Che bombardano Madonna Ma dove lo facciamo? Vai Vabbè Ragazzi Non ho solso il cuore senza vita Non stavo Non stavo E2 Dai Ne abbiamo eliminato Te due Grandissimi No Non è ancora sconcuto E' tornato il mio editore Una bomba Una bomba Una bomba Vai Pistolero E' Il colpo del pistolero promò il terzaio Ehi Bravi Pistolero Ok Arriva la strega Arriva la strega Arriva la strega Eccola Che bella Questa schifu è la più bella di tutte La voglio troppo Senti l'essere mia Che crema dai Ok Muori Ok Sai perché non dice mai niente Quando ammazzo io i boss Agli altri gli fa tutta la pippa E gli fa tutti i complimenti E io invece Non mi becco mai niente Vabbè Non importa La gloria mia E' abbastanza E' quello che mi appaga Mori 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 Sì Oh Finalmente un po' di complimenti anche per il soldato Oh Ce l'abbiamo fatta Non è vero Non è precipitato Sto dicendo delle bugie Delle bugie Menzogna E' bellissima Quella cosa di Ana La posa vittoriosa di Ana Sto bene Ok abbiamo Una best lei Tutti l'ha fatta Vediamo Dai dai E' eliminato un bel po' di una volta sola Bravo Anzino Ok vediamo chi diamo i punteggi Vabbè io ho ammazzato più i zomini tutti E' dovrei portarli a me Ma la darà no Anzo perché ho fatto la best Vabbè dai Molto obbligato Facciamo così Bene ragazzi Questo era tutto per la modalità dell'evento di Halloween Io vi ringrazio per aver seguito il video Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace Scrivete nei commenti se volete vedere le altre Diciamo difficoltà di questa modalità di Halloween Intanto c'è C'è già anche Stein che abbraccia il suo mostro Molto carini Fatemi sapere Se vi è piaciuto E iscrivetevi Nel mio canale per nuovi video Vi ringrazio E vi saluto Alla prossima